Grazie a tutti. Da momenti un po' da brivido ma tutto finito bene. Ripartono i dieci concorrenti. In ritardo di galoppo proprio Barney Lenny. Stacco della macchina. Veloce Black di Venere. Cerca di scavalcare Bramante Cla. Manovra che riesce. Poi Black Fire Horse terzo alla corda. Allargo anche Birgit. Si getta però di galoppo. Black di Venere sulla curva. Rimane quindi davanti Bramante Cla. Squalificato. Davanti a Birgit. 15-8 i primi 200 metri con seconda alla corda Black Fire Horse. Poi si lancia a largo. Numero uno. Blasia Io. Squalificato. Tello Sorsetto che va a chiedere strada. Vediamo se la ottiene. Così è. Dopo 32 scarsi. La nuova battistrada è Buffera Spritz davanti a Bramante Cla. Black Fire Horse. Poi Bimbo di Mille. Mentre Birgit ripiega al fianco degli allievo di Mille Zanichelli. Arriviamo al passaggio davanti alle tribune. Sono rimasti praticamente in cinque. Tutti molto sgranati. Con in vantaggio la Naglò di Andrea Sarsetto. Buffera Spritz seguita dal Sauro Bramante Cla. Poi Black Fire Horse. Bimbo di Mille e Birgit. Il giro in uno e mezzo con Buffera Spritz sempre in vantaggio. Si riavvicina Bramante Cla. Un po' storto nelle curve. Poi anche Black Fire Horse si rifà sotto. Arriviamo al chilometro passato dalla femmina in uno 16.8. Sempre Bramante Cla. Secondo la corda davanti a Black Fire Horse. Poi Bimbo di Mille e Birgit. Ancora fila indiana del quintetto. Sulla retta di là con Buffera Spritz ancora Salda Battistrada. percolle la diritta di là intorno al 15. Mentre Black Fire Horse con Michele Canali sposta all'esterno di Bramante Cla. Ma Buffera Spritz ha preso vantaggio importante. Mancano ancora però 250 metri al traguardo. Buffera Spritz in vantaggio. Black Fire Horse che cerca di farsi sotto su Bramante Cla. poi avanza anche Birgit. Ultimi 100 metri a netto vantaggio Buffera Spritz che viene a dominare Buffera Spritz. Otello Zorzetto mentre per il secondo Black Fire Horse batte Bramante Cla. Bella vittoria per Buffera Spritz. È passata dopo 400 metri la figlia di Naglò su Bramante Cla. Poi è andata via di Lena e ha proseguito netta vincitrice. Rivediamo la retta d'arrivo della lieva di Andrea Zorzetto della scuderia Valle Falconera. Otello Zorzetto in Sulchi che vengono a vincere molto bene. e buon secondo Black Fire Horse che ha battuto Bramante Cla. Grazie a tutti. Grazie a tutti.